Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Gli ultimi due mesi del 2022 saranno particolarmente ricchi per i pensionati italiani. Sono in arrivo infatti ben due bonus tra novembre e dicembre oltre che l'anticipo della perequazione più il conguaglio per un più 2,2%. Vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Ormai abbiamo appreso che il 2,2% in più in arrivo a novembre porterà pochi spiccioli in più nelle tasche dei pensionati. Ma grazie al nuovo bonus in arrivo con il decreto aiuti ter da 150 euro per pensionati invalidi lavoratori e percettori del reddito di cittadinanza arriverà una vera e propria boccata d'ossigeno anche se è stato imposto il paletto reddituale dei 20 mila euro annui. Inoltre a dicembre arriverà anche la tredicesima e per alcuni pensionati anche l'ormai famoso bonus da 155 euro che ricordiamo spetta ai pensionati che non superino determinati limiti reddituali ovvero i pensionati che sono al minimo. Per chi si trova dunque con una pensione bassa e ovviamente un credito inferiore ai 20 mila euro sono in arrivo questi due bonus più anche la tredicesima sommati anche i pochi spiccioli del 2,2% in più della rivalutazione e del conguaglio. Gli ultimi due mesi del 2022 saranno quindi una boccata d'ossigeno per molti pensionati. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti!